Benvenuti nella nostra cucina! Chi è che ti dici? La vera della mia cucina! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video! Noi siamo la gina serie CSB Più o meno Sì, va bene E oggi siamo in una nuova location Benvenuti nella cucina di mia mamma Ok Allora, oggi faremo Una torta Allora Io non devo sapere niente Però qua ci sono gli ingredienti Ci sono tipo 3 kg di Nutella Quindi credo sia la torta alla Nutella Allora, la ricetta l'ho presa da giallo zafferano Abbiamo farina, uova, zucchero a velo Nutella, burro E anche del burro ancora in frigo Perché deve essere freddo E niente, quindi oggi faremo un dolce Senza che lei sa che cos'è Iniziamo Ma quindi non hai indovinato Iniziamo? Ah, hai indovinato Iniziamo! Buona visione! Ok Ciotola Ma dili che è quanto è la farina Eh, non me lo ricordo Ah Farina E? Ma sei sicura che questa ciotola basta? Burro? Mi fai assentare il burro Io sarò qui a guardarti, va bene Ma tu devi aiutarmi Cosa devo fare? Vuoi farlo tu? Ma poi mi sporco tu Va bene Allora, se vai questo lo faccio io Riesci con un quadro mio, però Ah Ecco Non fa tipo la sabbia Vai Ma prima possiamo spezzettare aglio Il burro E fa tipo Ok, hai finito? Mi hai noto un crampo No, ma devo stare dalla mia parte Puoi usare anche l'altra mano adesso Giusto Poi? Ok Poi trasferiamo sul piano Oddio Scende come il tiramisù di ieri sera Ma deve essere più fatto? No E facciamo Un buco Ho già capito il disastro che andiamo a fare noi E adesso Dobbiamo dividere Il tuorlo dall'albume Qua vanno i tuorli Scusami Oh, ci sarò quanto tutto No, ti prego così impastarlo io No, c'è un cuore giallo C'è rotto E' un problema Dobbiamo setacciare lo zucchero a velo Ho già capito che andrà roba ovunque Questa qua Un'epica Sì Poi cosa devo fare? Dobbiamo impastare Vai, muoviti Perché muoviti? Perché dopo devo andare Uh, sta uscendo l'uovo Io ho paura di fare i casini Perché Sì, ma prendi anche questo qua sotto Visto che sta cadendo Uh, un pezzo d'uovo Non vedo C'è la tua mano ingombrante Me la togli per poco Dai, togli Non vedo Gli è caduto qualcosa L'uovo che c'era sulla mia mano Colpa tua Ok Perché Non si compone sto cosa Ma che bel panetto Prendi un po' di carta Ah, ma è già finita qui Un po' di carta Si sta appiccicando Prima un po' di farina Ma lo sai che io lo mangerai lì? Aspetta, un po' di farina per favore Appena metti una spezzatina di farina Puoi prendere la carta Grazie, 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 grazie Puoi prendere la carta Con la trasparente Che è una pellicola Ecco Metteva sul piano Tanto quello che se ne frega Se si sporca Ci va dentro Aspetta Il panetto Era tratta Dalla mia felpa Vai Che si sta Cartocciando tutta Questa è la pasta frolla? Non lo so Stai facendo La crostata La nutella Sì L'ho scoperto Che cacchiorine Ok Allora Questo è il nostro panetto Vi dico qualcosa Ne capisco Un po' di pasticceria Fai vedere bene Il nostro bellissimo panetto Ok Che adesso va in frigo A riposare E intanto che riposa La Jenna se ne va Sì Anche perché Perché deve andare via Non posso Oddio Vado Corro E È un ruolo di qua No Di là raffredda Di più No 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 Di qua Di qua Di qua Di qua Di là c'è il cipollotto È un porco Non è un cipollotto Vabbè E Quindi Ci vediamo Quando la Jenna torna Siamo tornati Con il nostro Panetto Il nostro Panetto Ah E Dovevo metterlo Nella tortiera Ma è brutta Ma parla per te Sarai tu brutta No ma perché Non si rompe così Ma perché è normale Si rompe Si è appiantata No Te lo sento che si rompe No Si è tutta attaccata Bella Epic fail No Aspetta Ci manca un pezzo qui Vai Ti do una manina io Ops Estava bene? Si Bu che regniamo E anche io voglio farlo Bu che regniamo Bu che regniamo Aaaaa Questo è l'amore Che si mette Nella pasticceria Ma cosa fai? Ti do il lavoro da fare E non lo fai Ops Sei un disastro Ma non riesco Ma basta Ma va bene Vuoi che si gonfia La nostra costata Ma non si gonfia Hai fatto 2000 buchi Ok Lasciamo un attimo Da parte E dobbiamo preparare Il ripieno Di nutella Visto che dobbiamo Sciogliere Il burro E il nostro micro Nel fa Lo sciogliamo A bagnomaria Abbiamo messo Un po' d'acqua Nel pentolino Ci andiamo a mettere La ciotolina Con il burro Anche se A bagnomaria La ciotolina Non dovrebbe mai Toccare l'acqua Però fa niente Questi sono dettagli Mi sta sciogliendo E abbiamo sciolto Il burro Allora Prendiamo la nostra Nutella E versiamoci All'interno Di solo una spatola Poco alla volta Ho un cucchiaio Il burro Che schifo E' unto Devo rovesciare Dentro il trucco Dimmi quando Tu verrai Dimmi quando 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 Temo Tu non stia facendo niente Così Ma sì Prendi la torta Posso mescolare un po' Voglio sentire com'è Va bene Ok non voglio farlo È durissimo Adesso mi scivola Brava È solito Non so se Non so se Sia la consistenza Giusta Allora La pastigera Della casa E lei Quindi se la torta Viene male È colpa sua Ok Allora abbiamo messo La farcia Però questo è quello che sta venendo Eh ma tu quale si sta fraccicando E praticamente abbiamo trovato un metodo per fare queste cose Allora praticamente faccio così Così Tadam Sì ma cosa è venuto sparato tutto storto Anche questo Il cuoricino più grande È il mio E quello più piccolo È della Giada Solo che avevamo le formine troppo grandi E troppo poca pasta Quindi abbiamo dovuto arrangiarci con il coltello e farlo noi Questa è la nostra torta Buona E adesso lo andiamo a infornare a 160 gradi per 40 minuti Questa luce è terribile fai paura Ah sì? Sì Dove che compare il papi Mezz'ora 40 minuti È bruttissima Abbiamo sformato la torta Diciamo che non è una delle più belle Però speriamo che sia buona Intanto la Giada sta facendo le barbabietole Perché si è fatta ora di cena E vabbè Vai Giadi Chiudi il video Adios Ma tutte le cose non le dici? E ma Allora Iscrivetevi al canale Lasciate un like Speriamo che questo video vi sia piaciuto Sì Non come la nostra torta Perché è bruttissima Speriamo sia buona E niente Al prossimo video Adios Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti